Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Maia, tu sapevi se aveva una storia? Non sappiamo niente di lei. E' tanto che non ne parli. Basta, Rosa. Basta. Mi voglio star coi vivi e non coi morti come te fatti. Qui facciamo incontri per sole donne. Tutti i giovedì. I disegni sono miei. Sono la mamma di Maia. È rosa? È rosa. Grazie.